Voglia di continuare a stupire. Tre vittorie consecutive hanno proiettato il Gubbio al secondo posto solitario in classifica dopo 16 turni del girone B di Serie C, ad un punto dalla reggiana capolista e per questo la partita con il Siena, distante 6 punti dai russo blu, diviene l'ennesimo esame da superare per provare definitivamente ad alzare l'asticella. Fischio d'inizio alle ore 14.30 al Barbetti per una partita in cui sarà fondamentale l'approccio e l'atteggiamento come analizzato dal direttore sportivo Davide Mignemi. Domani sarà una partita complicata sia dal punto di vista fisico perché giochiamo ogni tre giorni e quindi dobbiamo dosare bene le forze e sia dal punto di vista mentale perché di energie mentali ne abbiamo sprecate tante, dobbiamo ricaricare le pile e serve grande attenzione, grande pazienza, grande calma e grande lucidità. Qui nessuno di noi fa voli pindarici, siamo tutti ben piantati con i piedi per terra perché io penso che dalle forti radici crescono degli alberi importanti e quindi ben piantati con i piedi per terra non ci sentiamo appagati ma vogliamo viverci questo momento, anzi vogliamo cercare se è possibile di continuare a stupire perché è quello che stiamo facendo. Il DS Etneo al secondo anno sotto i cinque colli sottolinea come il percorso di crescita sia in pieno itinere. Non faccio il direttore sportivo di questa squadra di quest'anno ma lo sono stato anche lo scorso anno e credo che in un anno e mezzo posso sicuramente dire che alcune cose qui sono cambiate, tante spero ne cambino ancora. Io spero in un futuro prossimo di essere anche un migliore direttore sportivo rispetto a quello che possa essere adesso. Per la crescita mia ma soprattutto per la crescita della società perché questa società merita di fare con umiltà dei passi e dei gradini che gli possano dare più lustro. E se è vero che mancano ancora quattro gare alla riapertura del mercato invernale è altrettanto vero che la volontà è quella di mantenere pressoché intatta l'ossatura della squadra cercando possibilmente di migliorarla. Per questo l'idea è quella di tenersi stretti i pezzi pregiati a partire da Alessandro Arena con Mignemi, Sibillino sulla permanenza del fantasista siciliano Agubbio Sino a fine campionato. Lui rimarrà qua almeno fino a fine anno, questo è in dubbio, agonistico certo, ma questo non perché lo dico io ma perché lo dice il mio presidente. È chiaro che una squadra che comunque in questo momento sta dando, sta avendo questo tipo di rendimento sarebbe da folli smembrarlo. Piuttosto sarebbe importante, qualora poi ci sia la possibilità di cercare di aiutare un gruppo che in questo momento è composto da 22 calciatori. Ma di questo poi se ne parlerà a tempo debito perché comunque le idee chiare ci sono, ci confronteremo e poi cercheremo di capire se si è nelle condizioni di poter aiutare questa squadra anche a livello numerico. Noi non siamo costruiti per fare quel tipo di campionato, però penso anche che nella vita come nello sport in generale, come nel calcio, non sempre vince chi spende di più. E io voglio pensare che noi possiamo sognare e se io sogno voglio sognare in grande e quindi voglio pensare al massimo.